per chi è la prima volta che viene al comune benvenuto per la prima volta anche per chi è venuto per la terza è così sia però non si possono dire tutti i numeri sono tantissimi quanti sono i numeri? però è finito le 8 è finito le 8 Siete contenti di essere qua? Sì! E domani sapete che è il compleanno dell'Italia Unita? Sì! Perché tante anni fa delle persone vestite come voi sono andate a iniziare un po' a convincere delle volte anche con un po' di... come posso dire con la mano anche un po' pesante a convincere le persone dal sud dal nord che l'Italia doveva essere tutta unita e le hanno convinti quindi da un giorno di 150 anni fa si sono riuniti tutti i signori provenienti da tutta Italia e hanno cominciato a fare le leggi per l'Italia Unita poi questa Italia è stata guidata per un certo numero di anni da un re da un certo numero di anni in poi non più da un re ma c'è la Repubblica quindi adesso noi siamo nell'Italia Unita Repubblicana su questo ci siamo? Tutto chiaro? Sì! Perfetto! E Monterodondo, questa città, ha dato un grande contributo a questo convincimento perché anche a Monterodondo è venuto per il bambino lo sapevate? Sì! Lui, guardate come si mantiene il giorno è venuto qui e ha dovuto anche a Monterodondo spiegare ai cittadini che era meglio che l'Italia era unita e che la governasse il re anche se non so se fosse molto d'accordo comunque è andata così ho detto tutto questo, so che voi siete venuti qua poi appena ci vediamo spesso perché ogni tanto venite a trovare poi voi venite ogni tanto a trovare me poi io vedo i vostri disegni che sono bellissimi anche le vostre canzoni ascolto che fate dei canti molto belli, vero? Sì! E che oggi sicuramente avete dovuto fare un altro canto Sì! Io però sono curioso, siccome sono curioso di ascoltare tutto che avete da cantare vi saluto e dopo vi premio uno per uno, eh? Sì! Questo lo sapevate? No! Allora prima che cantate dovete sapere che dopo che avrete finito di cantare io vi premio uno per uno come Garibaldini e Garibaldini piccoli Garibaldini e Garibaldini di questo comune e avrete una medaglia e una medaglia che poi voi la tenete e potete dire a tutti questa è la mia medaglia da Garibaldino o da Garibaldini va bene? adesso i vostri maestri dovranno ricordinerare in questi canti adesso vi ascolto, eh? va bene? ma dopo invece è un po' bene 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.